Musica 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 d'emozione, qualche volta sono venuto in passato, ora dopo tre anni sono tornato, e siamo qua anche per loro, grazie a loro. E per quanto riguarda lei invece, quando tornerà a diventare Presidente? Ora vediamo, oggi è tempo, non è una cosa ulteriore, la società è ben rappresentata in questo momento. Grazie.